Noi stiamo cercando di introdurre in questo sistema, normalmente preda di incursione di razzie clientelari, qualche volta purtroppo anche di atti di violenza, un approccio istituzionale. L'avvertenza CESIP è ormai un'avvertenza sindacale, che si fa nei tavoli sindacali, con le procedure sindacali, e con il coinvolgimento dell'Inps, del Ministero del Lavoro, del Comune di Palermo e di Italia del Lavoro. Vorremmo che lo stesso accadesse anche per i PIP. Considero certamente non accettabile l'idea che il sindaco della città di Palermo debba prendere per caso a un giornalista ieri domenica che starebbero arrivando delle assegnazioni di personale al Comune di Palermo. Ma stiamo parlando di cose o di esseri umani, stiamo parlando di rifiuti o di lavoratori. che vengono assegnati senza che ci sia una preventiva intesa con l'amministrazione che potrebbe accoglierli meglio e utilizzarli al meglio. La realtà è che in questa nostra regione c'è qualcuno che pensa che facendo confusione distrae l'attenzione sulle proprie inefficienze. E che questo lo faccia la regione, che ormai tutti comprendono essere in condizioni di pre-commissariamento, diventa ancora più grave. Io sto facendo uno sforzo enorme per mettere in sicurezza che sono riuscito i conti del Comune di Palermo e non consenterò che gli sprechi delle caste regionali uccidano la città.